Bene, 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 e da questa hit scatenata il nostro ospite ancora qui, Mario Rosini! Grande Mario, grande, grande. Tutte amiche mie. Allora Mario, intanto grazie per averci dato questo sostegno in questa prima puntata di Hit & Dance. Io penso che tu abbia voglia di dedicare al nostro pubblico, anche a quello che ci segue da casa, soprattutto a loro, un altro brano che fa parte di che cosa esattamente? Ma questo è l'ultimo LP che è uscito ormai qualche mese fa, questa canzone parla dell'inquietudine. Chi non è inquieto oggi? Vuole dire il traffico, le bollette da pagare, le cose, insomma un casino per cui non è inquieto. Io esprimo la mia inquietudine con questa canzone. Benissimo, speriamo che passi. Io me la faccio passare con la musica. Bene, signori Mario Rosini! Con un rimorso fra le mani, ti sembrerà che il tempo voli. Ti inquieto, come il fondo di un bicchiere, come un ricordo che fa male, e poi ti senti di morire. Sarà che tutto assomiglia ieri, tutto si trasforma in una facile fondi. Sarà che adesso non so più che fare, adesso è così tutto uguale, ma cosa vuoi che sia? Inquieto, senza neanche più dormire, non ci vorresti più pensare, ma chiodo e fisso da finire. Inquieto, come una notte indifferente, a te che sei così distante, così lontano, così assente. Fatti miei, se non convincolo neanche me, se non ho più regole, un equilibrio instabile. Fatti miei, se mi chiudo dietro e va, conseguenza logica, di un'aspetta identità. Inquieto, come c'è scritto nei miei fogli, nei miei numerosi sbagli, chissà se pagherò nei sogni. Inquieto, perché non ho più le certezze, le tue virtù, le mie amarezze, mi perdo nelle mie stanze. Fatti miei, se non convincolo neanche me, se non ho più regole, un equilibrio instabile. Fatti miei, se mi chiudo dietro e va, conseguenza logica, di un'aspetta identità. Fatti miei, se non ho più regole, un equilibrio instabile. Inquieto, facile preda di illusioni, con un rimorso fra le mani, ti sembrerà che il tempo voli. E così volò il tempo e magari anche l'occasione di riconquistarlo, però è tempo perso Mario. Il tempo passa ma comunque noi lo ricorriamo, ci viviamo dentro e lo dobbiamo vivere con felicità e con molta passione. Benissimo, allora io ti ringrazio per aver imprezzosito la prima puntata di It and Dance. Facciamo un bel applauso a Mario Rosini, grande mitico. Allora vai Paolo, vai, sconvolgici. It and Dance, siamo rientrati, eccoci qua con la nostra classifica settimanale. Stiamo ballando, ci stiamo riscaldando, preparando, perché no, per il fine settimana, insomma, per quanti andranno a ballare sicuramente io la potrei definire una fase di pre-riscaldamento con queste cinque canzoni. Allora Alfonso, noi siamo alla fine di questa classifica. Stiamo per scoprire la number one, la numero uno, la più forte, la più richiesta anche a Studio Centoradio e Publi Radio Network, perché ricordiamo che questo appuntamento con le cinque canzoni più forti della settimana è in collaborazione con questi due emittenti radiofonici, ovvero Studio Centoradio e Publi Radio Network. Permetti di salutare tutto il gruppo di Studio Centoradio e Publi Radio Network. Che ci vede anche di notte, guarda un po' Paolo, guarda te. Vai Paolo con il number one questa volta. Allora Alfonso, velocemente, numero cinque, abbiamo parlato John Magan con Maria, numero quattro, Maurice Corti e Eugenio Lamedican, numero tre, Eduard Maia e Vic Gigolina. Numero due, Bingo Players e Tony Scott e noi adesso scopriamo la number one di questa settimana. Beh, lui è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, direttamente dalla Luancia, si chiama David Guetta, insomma l'abbiamo già ballato con tanti successi, tante collaborazioni, tra cui anche quella con Kelly Rowland, When Low Takes Over e anche il grande successo con Acon, Sexy Bitch. Questa è la canzone che dà il titolo al suo album, One Love, numero uno. David Guetta, Intendance, Si Palla, Studio 100 by Night. Così, Lucia, Intendance, Si Palla, Spaccia, Intendance. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti